Invece c'è il progetto della donna e cosa consiste? Consiste nel fare dei laboratori di sartoria, poi la cucina, il modo di cucinare e nella cucina, oltre a preparare i dolci, come noi cuciniamo, c'è uno scambio tra le loro abitazioni e soprattutto l'igiene. Come nutrirsi? Perché i bambini mi prendono i lati della mamma a fine dei anni, e quasi tutti i bambini sono anemici. Qui con la frutta si possono fare confetture, si possono fare succhi di frutta, è comunque un elemento base. Il progetto è stato fatto anche l'ingegnere, un ingegnere che ha seguito comunque tutti i nostri lavori, con il prezzo del ferro, il cemento, la sabbia, mi dice 36, quindi sui 37 mila euro, sono tanti.